Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quando ho aperto questo canale, ormai quasi un anno fa, la primissima domanda che ho ricevuto da un mio caro amico è stata Valerio, ma quali sono le migliori aziende in cui lavorare in Italia? E nel video di oggi vi voglio dare la mia personalissima risposta. Premetto che in questo video vi parlerò di quelle che sono le aziende che se mi chiamassero oggi andrei immediatamente a lavorare per loro. E probabilmente questa è la parte 1 di questa tipologia di video perché poi voglio far uscire una parte 2 dove la valutazione delle aziende sarà meno personale e più basata su dati oggettivi. Quindi in questa prima parte vi dirò quella che è la mia classifica personale sulle migliori aziende in cui io lavorerei. Mentre in un prossimo video vi dirò proprio dati oggettivi alla mano, quali sono le migliori aziende in cui lavorare in Italia. Ovviamente nel corso della mia carriera da iddunter ho avuto la possibilità di entrare in contatto con tantissime aziende diverse e soprattutto recuperare tantissime informazioni dai candidati. Quindi diciamo che le informazioni che ho sulle aziende sono piuttosto veritiere visto che i candidati sono la più grande fonte di informazione. Quindi le classifiche che andrò a fare si basano sia su informazioni che ho reperito attraverso i miei canali e sia ovviamente in base al gusto personale. Come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare questi video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Nella mia personale opinione di valutazione di un'azienda ci sono quattro principali fattori che per me sono i più importanti. E sono in questo specifico ordine, cioè la prima cosa, la cosa più importante è l'importanza del brand. Cioè se io pensassi di tornare in azienda a lavorare per un'azienda deve essere un'azienda super figa e super conosciuta. Per me questa cosa è importantissima. Forse è un po' infantile, però mi piacerebbe legare la mia persona e il mio nome a un top brand. Proprio per soddisfazione personale. Proprio per soddisfazione personale. La seconda cosa più importante è la possibilità di carriera. Quindi conoscere il mio percorso di carriera e sapere che in futuro il mio profilo è super rivendibile sul mercato del lavoro. La terza è il bilanciamento vita privata-lavoro. Nel senso che poiché io faccio tantissime cose per me è fondamentale avere del tempo libero per dedicarmi a tutte le mie passioni. E penso che lo sia un po' per tutti quanti. L'ho messo al terzo posto perché forse se mi arrivasse un'opportunità di un super brand dove so che si lavora tanto metterei comunque in secondo piano il bilanciamento vita privata-lavoro. E la quarta e l'ultimo driver per me in questo momento ovviamente della mia vita è lo stipendio. Nel senso che è comunque importante però se dovessi sacrificare qualcosa probabilmente lo stipendio sarebbe la cosa meno importante in queste prime fasi della mia carriera. Ora partiamo con la mia classifica. Sono in tutto 7 e la prima di cui vi vorrei parlare è Cisco. Cisco non so se tutti la conoscono è forse la meno famosa, una delle meno famose di questa lista. Ed è una multinazionale che opera nel mondo dell'information technology. In particolare si occupa dello sviluppo di piattaforme e di software finalizzate al permettere alle aziende e ai suoi clienti la trasformazione digitale. Cioè a implementare, a trasformare i processi produttivi di un'azienda e renderli digitali. Mi sono innamorato di questa azienda quando vennero a parlare, a presentare il loro associate program in LUIS nell'università. E praticamente c'erano questi ragazzi poco più grandi di noi che ci raccontavano come era lavorare con Cisco. Ed effettivamente poi ho avuto anche un riscontro da un mio amico che ci lavora dentro ed è veramente molto molto figo. Questo programma praticamente durava due anni e facevi tantissima job rotation tra le varie divisioni interne all'azienda. Inviai la candidatura e venni agilmente scartato. La seconda azienda di cui vi volevo parlare invece è Google. Penso non ci sia bisogno di presentare Google, è il sogno della mia vita. Anche in questo caso ho avuto l'opportunità di assistere ad un incontro con un key account manager di Google che venne in LUIS e ci raccontò come era lavorare in Google ed è proprio come immagino sappiate. Cioè orari lavorativi flessibili, l'importante è che porti risultati, stipendi altissimi, insomma è un paradiso. L'unica pecca fu che purtroppo in Google ci puoi entrare in stage o tra il secondo e il terzo anno di laurea triennale o tra il primo e il secondo anno di laurea magistrale oppure in un secondo momento però nelle fasi più avanzate della propria carriera. Ed entrare è veramente veramente complicato. E purtroppo mi ritrovai a sostenere questo incontro nell'ultimo anno della mia laurea magistrale, inviai la candidatura per posizioni senior e venni brutalmente scartato. Una piccola nota simpatica però è che con questo canale YouTube io sono associato a un key account manager di Google e quindi nel quotidiano io posso chattare con questa persona che lavora in Google, è super laureata, guadagna tantissimo e mi supporta nelle mie attività qui su YouTube. Quindi praticamente a farmi l'assistenza è una persona che lavora nell'azienda dei miei sogni. La terza azienda di cui vi volevo parlare è Procter & Gamble. Non so se la conoscete proprio nel dettaglio però per farvi capire Procter & Gamble è il gruppo proprietario di diversi brand come Pampers, Gillette, Brown, insomma tutti i beni di consumo che probabilmente utilizzate nella vita di tutti i giorni. Non so se Pampers lo utilizzate nella vita di tutti i giorni però prodotti che comunque utilizzate nella vita di tutti i giorni. Sono molto affascinato da Procter & Gamble perché per chi ha studiato marketing, per chi ha fatto studi in ambiente economico è come se fosse un po' un traguardo da raggiungere. È una nota simpatica che tutti i migliori studenti del mio corso di laurea ora lavorano in Procter & Gamble e da loro tutti i feedback super positivi sull'azienda. Nel senso che le attività sono varie, sei importante dal primo giorno, ti danno possibilità di crescere e soprattutto di essere decisivo nelle decisioni strategiche di marketing dell'azienda. Un piccolo contro è che lavori tantissimo, mi hanno detto che praticamente non hai una vita però per quello che fai e per quello che puoi arrivare a fare in futuro probabilmente ne vale la pena. Per entrare devi superare la prima fase di screening del curriculum, poi c'è un piccolo test complicatissimo, logico, tecnico da dover superare e poi ti sballottano un po' a destra e a sinistra con i vari colloqui con i manager. È tosta però se desiderate lavorare nella leader, nella top di mercato nel settore marketing ne può valere veramente la pena. Loro non mi hanno agilmente scartato perché non ho inviato la candidatura. La quarta azienda di cui vorrei parlare è McKinsey. McKinsey è come se fosse il Real Madrid della consulenza finanziaria e strategica. Sia in termini di risorse, cioè per entrare devi essere il top del top del top, sia poi in termini di progetti ai quali lavorano. Per dirvi si dice che il programma Brexit sia stato fatto da consulenti McKinsey oppure per esempio si dice che Draghi per il Recovery Fund si sia affidato a dei consulenti McKinsey per capire come distribuire le risorse. Insomma, ogni grandissimo movimento monetario, parlando proprio di miliardi di euro, c'è sempre di mezzo McKinsey. Entrare, come ho detto prima, è praticamente impossibile, devi avere un curriculum perfetto. Non esiste vita privata, nel senso che se lavori in McKinsey lavori 24 ore su 24. Lo stipendio è abbastanza elevato, la carriera è rosea, cioè la carriera sarà straordinaria, probabilmente la vita sarà un po' meno straordinaria. Però per farvi capire, gli attuali CEO di Google, Footloaker, Vodafone, Lego, Allianz, sono tutti McKinsey. Ora passiamo a due aziende alle quali sono particolarmente legato sia per motivi professionali sia per motivi affettivi. La prima delle due è Enel. Enel è forse l'azienda più fraintesa che esista al mondo, nel senso che quando dissi a mia mamma che volevo lavorare in Enel, lei pensò subito che voleva andare a prendere la lettura dei contatori nelle case della gente. In realtà il lavoro in Enel è un po' più complesso. Infatti Enel è la numero uno in Europa per quanto riguarda innovazione e sostenibilità. E per chi ha studiato innovazione come ho fatto io è sicuramente un traguardo da voler raggiungere assolutamente. Ho avuto l'opportunità di fare la mia tesi magistrale con loro, ho incontrato di persone in loro sia io e vi posso assicurare che all'interno fanno cose fighissime. Tra l'altro utilizzano un metodo di innovazione che è la Open Innovation, cioè loro praticamente all'interno non hanno dipartimento di ricerca e sviluppo, ma collaborano con una serie infinita di startup e di aziende per raggiungere le soluzioni di business migliori possibile. Insomma è praticamente un paradiso per chi ha fatto innovazione. L'unica pecca è che essendo un'azienda italiana inizia ad essere utile e a sentirti importante dopo dieci anni di carriera. Però i progetti sono veramente super fighi, guardate qui sul loro sito per esempio ci sono progetti di innovazione e sostenibilità in giro per il mondo aperti a tutti, quindi veramente veramente una cosa figa. L'altra azienda alla quale sono particolarmente affezionato è LinkedIn. LinkedIn è praticamente la personificazione del mio percorso fatto ad azienda, cioè innovazione più risorse umane più marketing, è praticamente quello che sarei io se diventassi un'azienda. Ovviamente il lavoro è di una qualità assoluta, gli stipendi sono altissimi, l'unica pecca è che in Italia non c'è una posizione junior da praticamente cinque anni, tutte le posizioni richiedono dieci anni di esperienza e investire dieci anni nel settore vivendo con il sogno della possibilità di poter entrare in LinkedIn e poi magari non farcela non credo sia un grandissimo trade off, perdonami LinkedIn. L'ultima azienda di cui volevo parlare è un po' un'azienda fantasma, un'azienda nascosta nel senso che non credo che voi la conosciate e sto parlando di Egonzender. Più che essere un'azienda Egonzender è l'insieme delle più alte cariche del mondo del lavoro europeo che si sono riuniti e hanno deciso di fondare questa azienda che si occupa di ricerca e selezione di personale Executive. Che significa Executive? Significa che si occupano solamente di ricercare amministratori delegati, CFO, quindi le figure più alte del mercato del lavoro europeo e mondiale. Entrare qui è praticamente impossibile, ci lavorano veramente ex direttori delle risorse umane, ex direttori commerciali, vicepresidenti di Confindustria, insomma è veramente una selezione di élite assoluta, di persone che hanno deciso di mollare la loro carica elevatissima nel mercato del lavoro per sfruttare il proprio network e diventare downter di figure Executive. Vi invito veramente ad andare a vedere qualche profilo LinkedIn di persone che lavorano in questa azienda, sono veramente spaventose. Credo che l'età media sia tipo 55 anni e lo stipendio medio è sicuramente tra i più alti del mondo. Pensate che per figure Executive generalmente la parte variabile, cioè la tariffa di vendita di figure di questo tipo, è del 30% sulla RAL, sulla retribuzione annualorda del candidato e parliamo di candidati che partono da una base di 120-150 mila euro annui. Quindi immaginate di collocarne tre, parliamo di un variabile del 30% su 500 mila euro, quindi più di 150 mila euro annui solamente di parte variabile escludendo la parte fissa. Quindi potete immaginare di che cifre stiamo parlando. Ed è un'azienda fantasma perché è molto poco conosciuta, sicuramente i vertici del mercato del lavoro la conoscono perché sono stati approcciati sicuramente al 100% da consulenti di questa azienda, però è un'azienda che sicuramente un neolaureato, un candidato junior non conosce perché non ha bisogno di fare employer branding, cioè non ha bisogno di farsi conoscere. E in futuro, magari, chi lo sa, se uno si costruisce un buon network potrebbe essere qualcosa di molto interessante da fare. Ragazzi, queste erano per me le sette migliori aziende in cui lavorare, cioè in cui io personalmente lavorerei subito. Fate anche un salto su Instagram dove pubblico sondaggi, sto cercando di essere molto più attivo, quindi seguitemi anche lì. Inoltre fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete un'azienda sogno nella quale vorreste andare a lavorare e fatemi sapere se siete d'accordo con le mie metodologie di valutazione. Per oggi è tutto e alla prossima! Grazie a tutti!